E' la polizia del locale commissariato che indaga sul greve fatto di cronaca che si è verificato la scorsa notte poco prima delle 2 in via Parioli nel quartiere Capo Soprano. Mani sconosciute hanno dato le fiamme la sala cinesca dei locali del SERT, l'ufficio che offre assistenza ai tossicodipendenti. Il fuoco inoltre si è propagato all'ingresso degli uffici dell'azienda sanitaria provinciale. Gli investigatori stanno battendo numerose piste al fine di giungere all'individuazione dei responsabili. requisite le immagini del sistema di videosorveglianza che si trova in zona. Giuseppe Piva, direttore del distretto sanitario giorese. Sembra il gesto vandalico di persone sconsiderate. Noi da un anno che cerchiamo con la direzione strategica di recuperare locali per i servizi, tant'è che il locale adiacente a quello dolosamente ingentiato era stato da poco aperto per rendere più fruibile il servizio di rilascio e esenzione di ticket per reddito. Ci troviamo poi frustrati da questi atteggiamenti vile che mettono in crisi quelli che sono i servizi che offre l'azienda. Tant'è che oggi abbiamo immediatamente provveduto ad aprire un'altra entrata per i servizi del SERT. Ma è chiaro che si crea disagio agli utenti, al personale, ma alla cittadinanza anche per i servizi offerti accessori, cioè a dire rilascio dei ticket, che in questo momento sono stati invasi dai fumi dell'incendio per cui risultano anche, pur se funzionanti, sgradevoli per gli odori che ci sono all'interno, il fumo che si è creato. Da subito il direttore generale si è attivato immediatamente, dopo essere stato informato, a allertare le squadre per operare una pulizia straordinaria degli ingressi e dell'androne a rendere più intagibile subito il locale, più le squadre di tecnici per il ripristino delle sere cinesche e di quando è andato di sotto all'incendio sull'ingresso. Fortunatamente i danni sono minimi, quindi interessano soltanto la parte di ingresso e la facciata che si è annerita e quindi da questo punto di vista ci è andata bene, diciamo. Ho parlato con il dirigente del SERT, con il dottore Placido Larosa, mi diceva che non hanno avuto sentore in questi giorni di malcontenti o di rimostranze da parte delle utenze, quindi non ce lo spieghiamo se non come un atto vandalico di persone che vogliono arrecare danno a questa struttura, già di per sé abbastanza precaria. E un altro incendio si è verificato sempre la scorsa notte in via Artigiani, distrutta la Fiat Punto di un pregiudicato. Su quest'ultimo episodio indagano i carabinieri.